L'Istituto Comprensivo Gino Rossi-Vairo partecipa anche quest'anno ad Europa in Canto, un'occasione per gli studenti di esibirsi al San Carlo, al Teatro San Carlo di Napoli, con l'Elisir d'Amore quest'anno. Siamo con le professoresse Messano e Di Giuseppe che hanno coordinato questo progetto e quindi il 19, finalmente, dopo oltre un anno d'attesa, perché sono i ragazzi che hanno lavorato all'Elisir d'Amore durante l'emergenza Codi, si sarà questa esibizione al Teatro San Carlo. Diciamo che quest'anno l'emozione è doppia, forse ancora di più, per il fatto che sono due anni che stiamo portando avanti questo progetto che purtroppo si è interrotto a causa del Covid. Quindi portare ora i ragazzi a Napoli veramente significa che la musica ricominciamo a vivere e soprattutto possiamo fare di nuovo musica. Quindi un'esperienza particolare quest'anno. È la prima esperienza della scuola dopo il lockdown, anche per uscire. I ragazzi sono entusiasmati, sono contentissimi di questa iniziativa. Porteremo, come hai già detto, l'Elisir d'Amore, che è un'opera che abbiamo cominciato a preparare già da un anno e mezzo, e i ragazzi saranno protagonisti dell'opera. Saranno il coro, sia cantanti professionisti, che faranno le parti principali, e con un'orchestra di professionisti. E poi nella cornice del Teatro San Carlo di Napoli, teatro più antico d'Europa. Qual è l'importanza per i ragazzi di partecipare ad un progetto così importante, di vivere la musica così da protagonisti? Questa è la nostra terza esperienza. Abbiamo già partecipato con l'Aida e con la Turandot. Abbiamo visto da parte dei ragazzi un coinvolgimento e una partecipazione veramente svalorditiva. In effetti il progetto Europa Incanto, che è nato nel 2012, ha proprio l'obiettivo di avvicinare in modo ludico i ragazzi alla conoscenza dell'opera lirica. L'opera lirica è di per sé abbastanza ostica come forma musicale, però vissuta in questo modo è veramente eccezionale per i ragazzi. I ragazzi mi hanno detto, professoressa lo sa, noi abbiamo messo la suoneria del Nessun Dorma sul cellulare. Quindi è un primo approccio all'opera lirica e quindi al mondo del teatro, al mondo del teatro lirico. L'obiettivo è proprio questo, anche perché avvicinarsi all'opera lirica con questa tipologia di metodologia che è coinvolgente al massimo, è veramente fare scuola in modo attuale, attivo e partecipativo.